oh ahahah ahahah sta a far capire il caso ma adesso non capisce no? ahahah ma che figa non te la fa vedere che è immacchiata e non ce la dai si la cinta bella bella beautiful 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 oh ahahahahah ahahahah ahahah ma non ahahah Non ce la fa! Questo è proprio un guanaro, un guanaro, un grosso! Non è che si piccoli! Ma non è che se lo ha comprato la metà, la cassa a te! Anche se lo ha comprato la metà, la cassa a te! La metà è la ricetta di panno! Stavo a zaccalchino, poi... Ahahahah! Aveva luce! Ahahahah! Alla stai, vieni! Sì, sì! La cinta, ti guarda! Togliamo il pallone Qua! Tutto qua, sta? No! No! Qua no! No! Qua no! Bocca no! Oddio! Ma no! Ma no! No! No, perché è piccolina! Vedete che c'è il nonno! Allora! Vede, vede! Vede, vede! Vede, vede, vede! C'è pure il libro!